La Florida punta a vietare TikTok nelle università statali. Buongiorno e benvenuti al Caffettino Podcast. Sono Mario Moroni e qui oggi, davanti alla macchinetta del caffè, commentiamo, come tutti i giorni facciamo da più di 1200 puntate, una notizia tech, una notizia sul mondo dell'innovazione, sempre al nostro lato, quello critico, non tecno-entusiasta per forza. Oggi parliamo di un trend che arriva dagli Stati Uniti e continua a interrogare gli esperti, gli osservatori, ma anche i professionisti e gli imprenditori, perché c'è un trend negli ultimi settimane che prima ha riguardato l'intelligenza artificiale e ora riguarda di nuovo TikTok nel blocco, nel ban, soprattutto nei luoghi di studio. La notizia di qualche settimana fa riguardava OpenAI con ChatGPT che le università pubbliche della città di New York aveva bannato, perché chiaramente gli studenti la utilizzavano per fare i compiti, per fare le ricerche, le tesi e via dicendo. Oggi arriva la notizia, direttamente dalla Florida, che sembrerebbe che i funzionari delle università in Florida stiano prendendo in considerazione un possibile divieto di TikTok che potrebbe impedire agli studenti di queste università di utilizzare l'applicazione di ByteDance in 12 campus in tutto lo Stato. Vi ricordate quando Trump era presidente degli Stati Uniti, il braccio di ferro con le autorità cinesi e americane per far sì che ByteDance, la proprietaria cinese di questo social e di altri applicativi che noi in Occidente utilizziamo, ogni tanto ci dimentichiamo che siano del governo popolare cinese, bene, ma era passata in cavalleria poi con l'avvento del presidente Biden. Ora chiaramente ricomincia a serpeggiare la problematica di sicurezza che in qualche maniera vuole limitare l'accesso a quest'app. Quindi da un certo punto di vista la parte politica, da un certo punto di vista anche la parte di materiale intellettuale, quello che viene definito chiaramente il materiale intellettuale e di ragionamento che gli studenti dovrebbero saper maneggiare con cura. E poi c'è un fattore anche di sicurezza nazionale, oltre che politico, perché l'abbiamo visto in diverse situazioni anche riguardanti altre piattaforme non occidentali, ovvero la capacità di alcuni governi non democratici, e chiaramente la Cina è uno di questi, di poter utilizzare questo tipo di strumento come malware di comunicazione, per inserire alcune fake news, alcune motivazioni, anche alcune tesi, alcune anche legittime. La soluzione quindi è bannare TikTok? Non credo, perché chiaramente l'Università del Texas, l'Università dell'Oklahoma hanno già fatto questa operazione, ma quando arrivi a bloccare, a bannare senza poi riuscire a incidere culturalmente, cioè a spiegare il perché sia pericoloso utilizzare TikTok, vuol dire che un po' hai finito. E chiaramente gli studenti sanno che basta una VPN, o basta un arcoglimento tecnico e tecnologico per potersi collegare, e poi chiaramente si parla di business, quindi TikTok cercherà un modo per far arrivare soluzioni a chi vuole collegarsi. Però dall'altra parte il ruolo educativo, e questo lo vedo in tutte le situazioni, deve avere la priorità su tutto, sul business, su qualsiasi situazione. Ricordiamoci che gli studenti non vanno all'università o a scuola per imparare delle nozioni, o per essere pronti per entrare nel mondo del lavoro, ma vanno a scuola e si formano perché si formano la vita, si formano a fare dei ragionamenti, qualsiasi sia il lavoro, se ci sarà in qualche maniera nel mondo successivo, quello diciamo così reale. Insomma, è un discorso molto aperto, ma quando si blocca a prescindere è difficile che funzioni. A proposito di scuole, a proposito di università, se vi va di avermi come ospite e come speaker in uno dei vostri eventi scolastici e universitari, scrivetemi a mariochiocciolamariomoroni.it Chiaramente è un'attività che faccio pro bono, un'attività che faccio gratuitamente. Se vi va, sto scegliendo in queste settimane dove andare. Fate i bravi, mangiate le verdure, a domani!